Il gran finale di Gente di Lago e di Fiume oggi al Teatro Maggiore di Verbania, davanti a una platea di 500 studenti, chef, esperti di ristorazione e di comunicazione con la sapiente regia del presidente dell'associazione, lo chef Marco Sacco, hanno parlato di nuove generazioni e di convivenza con le risorse che non sono infinite, anche con una serie di casi studio. Un momento dedicato ai ragazzi e fortemente voluto nell'abito della Kermess. Nicolas Edoardo, Istituto Maggia di Stresa, voi sognate proprio di fare i cuochi, gli chef, allora che cosa vi ha lasciato questa mattinata? Questa esperienza è stata sicuramente formativa perché comunque ti fa capire meglio il luogo in cui uno vive e quindi sicuramente è importante riuscire a essere consapevoli anche di tutte le materie prime che abbiamo a nostra disposizione. A scuola lavorate sul pesce d'acqua dolce che era un po' il tema di questa manifestazione? A scuola facciamo diversi piatti anche sia dei pesci d'acqua dolce sia dei pesci d'acqua salata e trattiamo molti pesci. Anche Kevin, Victor e Andrea vogliono lavorare nel prossimo futuro nella ristorazione, allora che cosa ti ha lasciato questa mattinata? Assolutamente, io sono Kevin, io personalmente faccio il barman. Vorresti lavorare in Italia o all'estero? Io vorrei andare via all'estero, come prima tappa vorrei andare in Spagna, vorrei girare perché il mio lavoro mi dà occasione di girare praticamente tutto il mondo. La cosa che ti ha colpito di più? Penso la carriera di uno degli chef che si è partito facendo il giocatore di rugby per poi diventare uno chef, questo ci insegna che malgrado l'età si possono sempre intraprendere nuovi sogni ed è sempre importante non rinunciare a queste esperienze. Che cosa ha colpito te stamattina? Sicuramente i discorsi sulle biodiversità del lago e su tutto quello che gira attorno al lago e l'ambiente in cui ci troviamo più vicino ma anche le varie storie raccontate come per esempio la ragazza che ha studiato ragioneria, anche io studiavo ragioneria e sono passato al lato della cucina perché penso sia un'arte con cui ci possiamo esprimere ma anche oggi ma come molto tempo fa si dipingevano quadri, penso che oggi il cuoco rappresenta un'arte. Grazie.